Onorevole, il Movimento 5 Stelle ha fatto del limite dei mandati una delle sue battaglie principe. Lei ha voluto sposare questa battaglia anche per quanto riguarda gli ordini professionali. Può spiegarci un po' che cosa è successo però negli ultimi giorni? È successo questo. Devo fare un piccolo flashback nella scorsa legislatura durante la discussione del DDL Lorenzin. Se voi vi ricordate c'era una parte che riguardava proprio gli ordini sanità, delle professioni sanitarie. Noi allora eravamo opposizione, come ben sapete, introducemmo attraverso i nostri emendamenti questo concetto del limite dei due mandati consecutivi. Per cui gli organi epicali, i consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie non potevano ricoprire quel ruolo per più di due volte consecutive. In realtà venne approvato in maniera un po' anacquata perché si prevedeva che comunque lo potevi ricoprire però in altre funzioni. Quindi se eri stato presidente potevi fare il tessoriere e via discornendo. Che comunque era una piccola vittoria per noi. Ora, questo emendamento cosa faceva? Non faceva altro che prorogare all'elezione successiva a quella che verrà adesso, alla prossima, l'entrata in vigore di questo emendamento, cioè di questa regola. Ecco, noi troviamo assolutamente insulsa questa idea di prorogarlo. Non vi è alcun motivo per cui si debba prorogare l'entrata in vigore di una legge che è legge che è così per tutti. Peraltro ricordo che ci sono state situazioni analoghe anche per altri ordini professionali. Vediamo l'ordine circondariale forense su cui addirittura si espressa proprio la Corte Costituzionale, ribadendo il concetto da noi espresso che richiama peraltro un articolo 51 della Costituzione che prevede proprio l'uguaglianza nell'accessibilità alle cariche degli organi elettivi. Perché chiaramente chi ricopre la funzione di presidente di un ordine per tre, quattro volte, cinque volte consecutive, come è stato in tantissimi ordini professionali, acquisisce una capacità ovviamente di ricoprire di nuovo quel ruolo che altri se non gli viene data l'occasione non potranno mai ricoprire. Quindi sostanzialmente è un principio democratico di uguaglianza, di accesso ad una carica elettiva che è importante per quella professione. Quindi credo che sia assolutamente insomma anche comprensibile e condivisibile più. Per me è un elemento identitario proprio della nostra idea di politica e di partecipazione dei cittadini e dei professionisti alla vita dei propri organi direttivi, dei propri consigli, eccetera. Senta, lei si è opposta appunto a questo emendamento che poi non è passato. Quindi ad oggi la situazione qual è? È stato ritirato in realtà, se io non ricordo male, è stato ritirato e proprio perché c'è stata questa mia presa di posizione molto forte. Non è una cosa che serve ai cittadini, serve solamente, probabilmente, ad alcune persone che già occupano questi ruoli a perpetuarli. Ebbene, lasciano lo spazio ad altri, non credo che ne soffrirà la democrazia tutt'altro. Crede che la questione sia chiusa oppure c'è il rischio che magari emendamenti simili possano... Non credo proprio che sia chiusa perché mi sono arrivati già dei messaggi per cercare di convincermi a cambiare posizione. Quindi credo che ci si voglia riprovare ancora. Spero di no, perché la mia posizione rimane è questa.